Il Grifo d'Oro al carro illuminazione del Rione di Via dell'Amore, questo è il vincitore dell'edizione 2023 della Maggiolata Lucignanese. Un'emozione unica la proclamazione del vincitore, quest'anno il nostro Grifo d'Oro è andato a Rione di Via dell'Amore, ma davvero dico che erano quattro carri stupendi, bellissimi, a dimostrazione del grande lavoro che hanno fatto. Un'edizione speciale, davvero sentita, partecipata, dei record, bella, bella sotto ogni aspetto. Si chiude così l'84esima edizione della Maggiolata che ha registrato un pubblico da record. Tra le vie del Borgo, uno dei più belli d'Italia, hanno sfilato i carri interamente addobbati tigarofani. Il tema di questa edizione era scenari del Settecento. La Maggiolata è un momento di festa, un momento di festa per una comunità, una comunità impegnata tutta nella riuscita di questa iniziativa. Un'iniziativa che dura più giorni e che rende questo, che è uno dei borghi più belli della Toscana, ancora più bello. E allora che sia una bella serata di festa, che le nostre manifestazioni storiche, tante nella nostra regione, che sono il segno delle identità delle nostre comunità, possano crescere e la Maggiolata ogni anno possa essere più bella e attirare più visitatori, più turisti che possano poi venire a conoscere quanta arte, quanta storia, quanta bellezza c'è nel Borgo di Lucignano.